Non si contano gli interventi dei vigilantes che da dieci giorni affiancano i bigliettai mentre in quattro casi è stato richiesto l'intervento anche delle forze dell'ordine. E questa è la situazione in sicurezza sui bus e corriere della MOM di servizio in tutta la provincia. I vigilanti si sono dimostrati particolarmente utili nelle attività di controllo dei titoli di viaggio e nella promozione di corretti comportamenti da parte dell'utenza. In quattro casi però le reazioni hanno creato qualche problema richiedendo il sostegno delle forze dell'ordine. Si tratta di una procedura attuata per prassi dagli operatori MOM e tuttavia la presenza dei vigilantes si dimostra importante per evitare che tali situazioni possano degenerare. Una sperimentazione che ha convinto i vertici di MOM a potenziarne la presenza con altri cinque turni da febbraio prossimo.